pensi di non meritare di meglio ma ho detto perché credi di non meritare di meglio io credo di non meritare di più invece è più grave attaccamento nasce dal fatto che noi abbiamo bisogno di sicurezza l'attaccamento dipende sempre dal fatto che non abbiamo fiducia in noi piangere per sapere di che cosa stai piangendo ti consola di più della paura che hai di ridere per una cosa che non sai quale sarà la stessa voglia sola esclusiva ed egoistica di cose belle e solo quelle scappare allontanarsi in maniera automatica dalle cose sgradevoli non ricordare e andare solo verso chi vi fa del bene grazie a tutti